L'estate 2021 sarà l'insegna del Green Pass. Mentre da oggi cambiano i parametri per assegnare i colori alle regioni, il nuovo decreto varato dal Governo prevede, a partire dal 6 agosto, anche in zona bianca, una serie di disposizioni che, con lo spettro della variante Delta e l'aumento dei contagi, hanno l'obiettivo di dare una spinta alla vaccinazione. Per ottenere il pass, infatti, è necessaria almeno una dose di siero anti-covid, oppure un tampone negativo entro le 48 ore o ancora la guarigione dal virus nei sei mesi precedenti. Il Green Pass, quindi, sarà utile agli over 12 anni che vorranno consumare un pasto in bar e ristoranti al chiuso, sedendosi al posto prenotato. Non servirà la certificazione verde per sedersi nei tavoli esterni dei ristoranti e nei bar per la consumazione al bancone. Accesso garantito ai possessori di Green Pass a piscine, palestere, spettacoli all'aperto, eventi e competizioni sportive, fiere e congressi, concorsi, cinema e teatri, centri termali, parchi divertimento e sale gioco. Salvo dall'uso della certificazione verde, resta il settore dei trasporti, per i quali il Green Pass non è necessario. I battenti delle discoteche, invece, resteranno serrati, sia che esse siano all'aperto che al chiuso. Abbiamo sentito il parere dei fanesi a riguardo. Noi l'abbiamo già fatto, nel senso che siamo stati vaccinati, quindi se vogliamo risolvere una situazione del genere, secondo me, è necessario. Sono assolutamente contrario, perché non puoi obbligare le persone con questo Green Pass, non dovrebbe esserci l'obbligo. È belato, però è un obbligo. Noi ce l'abbiamo, il Green Pass, però credo che sia fondamentale per mettere in sesto l'Italia. Secondo me è un'idea totalmente fuori di testa, cioè è completamente anticostituzionale, innanzitutto. Poi, per esempio, anche per le palestre, fare il Green Pass, che da me in palestra siamo dieci persone alla volta. Che senso ha? Se vado a mangiare in un ristorante, devo sapere che quello sia a posto, quel ristorante. Poi sta a me decidere se andare dentro o no. Io rispetto te, che non lo fai, però io voglio sapere e ti posso evitare. Oppure te puoi evitare me, perché l'ho fatto. Bisogna motivare la gente. La conseguenza deve essere positiva e non negativa, così anche nella mentalità delle persone non scatta la reazione inversa. Quella di dire, ah, c'è un obbligo, c'è una dittatura sanitaria, che è quello che più ho sentito. Siamo un paese libero e dobbiamo essere un paese libero. Quindi le persone non vogliono sentirsi costrette a fare delle cose. Penso sia meglio lasciare la libertà a tutti di potersi muovere dove si vuole. Sconcerto tra ristoratori e baristi, ancora una volta una misura che ci penalizza, hanno detto gli esercenti. Togliere questa libertà, tra virgolette, con un green pass, credo che risolva molto, ma molto poco. È una cosa impossibile da fare, quasi, perché non pensate nei piccoli locali, ma pensate dove entrano come nelle due o tre porte. Come facciamo a tutelare una cosa? Pensate in un grande ristorante. Come si può tutelare o verificare se tutti quanti siamo a posto? Cioè, quanto mangiamo? Quanto vi posso fare un caffè? Quanto potete sedervi, mangiare una pizza in un ristorante? Cioè, diventa una cosa quasi impossibile. Secondo me è inutile, visto che comunque, fino ad oggi, la gente si è seduta tranquillamente, sia all'esterno che all'interno, mantenendo le distanze di sicurezza. Noi ci siamo dovuti improvvisare medici e cercare di stare qua dentro, a misurare le temperature, a prendere dati, nome e cognome, indirizzo di tutti i nostri ospiti, perché comunque queste erano le regole e noi le abbiamo sempre rispettate e continueremo a rispettarle. Certo è che non possiamo continuare a fare, anche in questo caso, gli sceriffi, e dover andare a controllare, chiedere il green pass, mettere in difficoltà il cliente, anche violando a volte la privacy, anche quella che è la loro volontà, perché non siamo noi che possiamo andare ad obbligare al cliente a doversi vaccinare, piuttosto che stare all'interno, all'esterno. Non vedo perché bisogna andare ulteriormente a penalizzare la nostra categoria. Non vedo perché bisogna andare al cliente a doversi vaccinare,